Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in piazza Marconi, proprio in prossimità del Civico 5, ma non è solo il Civico 5 che riguarda la nostra puntata, ma un po' tutta l'aria. In questa zona in particolare vi mostrerò una situazione incredibile. Una persona disabile mi ha chiamato e ha sottoposto alla mia attenzione lo stato di degrado assoluto in cui versa l'aria con riferimento a quelli che dovrebbero essere i marciapiedi o chiamiamolo manto stradale, che è un percorso di guerra tra buche, dossi, sopraelevazioni dovute a accumuli di catrame che sono stati messi qui e lì per tappare le varie buche. Una situazione incredibile perché le mie parole non sono nulla rispetto alle immagini. Una persona entra nel portone o esce dal portone e vedete cosa trova a terra. C'è una situazione incredibile, il manto stradale è un percorso di guerra, qui si alza, qui si abbassa, tutto rotto, sotto il catrame emergono le vecchie pietre. Qui abita un disabile. Immaginate quali pene dell'inferno deve subire, oltre a quelle che una natura matrigna ha dato, ma si aggiunge la beffa, si aggiunge l'impossibilità materiale assoluta di poter camminare per il disabile, ma anche per il normodotato. Penso all'anziano che può cadere, può inciampare e diventare invalido. Questo è il manto stradale, ma potremmo andare avanti perché basta spostarsi di qualche decina di metri e il quadro è tale e quale a quello che vi ho mostrato. Vedete qui un altro fosso, qui si scende e poi si sale, qui addirittura sta sprofondando e qualcuno si spezza una gamba, qualcuno si rompe una gamba, poi deve giustamente chiedere i danni al comune, fin quando poi il danno verrà risarcito, se è un anziano si rompe il femore e ha finito di campare. Questa è la verità. Allora io mi rivolgo all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici di Paola per intervenire prontamente, subito, senza se e senza ma. Non mi interessa se ci sono o non ci sono i fondi, pare che nel nuovo bilancio siano stati messi dei fondi per il ripristino dei manti stradali, dei marciapiedi e quant'altro, ma qui è una priorità, perché io tutto posso accettare nella vita, ma non che i diritti del cittadino e in particolar modo del disabile vengano calpestati. Si aggiunge a questa schifezza di manto stradale l'assurdo che abbiamo degli alberi, dei pini, pare che siano anche colpiti da processionaria, non so, ma questi pini, chissà da quanti anni, non vengono potati, di tal che, vedete, i rami quasi entrano negli appartamenti. Guardate, qui stiamo parlando del centro di Taranto, non della periferia, delle periferie, dell'estrema periferia. Un degrado assoluto. Cosa ci vuole a far potare degli alberi, i cui rami non potati determinano poi ovviamente il proliferare di insetti? E guardate l'erba, l'erbaccia. Qui pare che le pecore possano quasi venire a pascolare. Piazza Marconi un tempo era un mercato, poi fu trasformato in una bella piazza con un chioschetto, una sorta di bar. C'erano anche delle panchine. Ora guarda, ci sono ancora, qualche panchina c'è ancora, ora è il regno di nessuno. Che vergogna. Signori amministratori, ve lo ripeto, intervenite per quest'area. Intervenite per questo manto stradale perché mi duele il cuore, veramente, e penso che la sofferenza sia anche vostra perché vi ritengo persone sensibili, che un disabile debba avere, debba subire le barriere amministrative dell'inefficienza amministrativa. Oltre a quelle che purtroppo Madre Natura gli ha dato. Intervenite. Aspetto risposte. Grazie. 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 Grazie.